Ehi la ciurma! Io sono Mezzatessa e ben ritrovati qui su Alien Breed Impact Siamo di nuovo qui a cercare di destreggiarci tra tutti questi stupidi alienuncoli Ho paura che me ne salti uno addosso da un momento all'altro Ok, siamo arrivati che dovevamo... Ma no, ma eravamo già andati giù sotto a far saltare... Cioè in realtà eravamo già morti e quindi... Ma poi conviene andare di così perché sappiamo già che usciranno di là Adesso gira la visuale Sì, questo l'abbiamo già visto, l'inizio del messaggio automatico Salve, non sono in servizio in questo momento Va bene, ciao È stato un piacere Aha Ah L'altro tecnico della sala pompa è... sei morto Allora, prendi sta chiave magnetica E... Eccoli Benvenuti 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 Qui tra noi Da dietro, non l'avevo visto questo Non mi ricordava che fosse... che uscissero anche di là Non l'avevo notato l'altra volta Vabbè Questo giro ci è andato già... moooolto meglio Anche se è andato tra un attimo... boom Eccolo Tutto il piombo che volete è qui per voi Carica Quali non sono particolarmente problematici Più che altro sono quelli che separano da lontano qui Danno fastidio Via Via Anche poi tendono sempre a cercare di prenderti da due lati diversi Ne ho usati due ma... vabbè... ci sta Adesso tanto ne troviamo E ne abbiamo comunque spregati E ne abbiamo comunque spregati Che non prima Perché prima... Me ne ero giocata molto peggio Adesso mi arrivano da sotto Ah no, anche da sotto Occala! Buongiorno! A presto! A tutto il mondo! Bonzo accetto! 200 munizioni che fanno sempre comodo Allora adesso giriamo un attimo in giù Perché qua... Ah ma tutti adesso appaiono da dietro Se non ricordo male Quindi conviene più che altro E poi tornare qua indietro A cercare le armi E poi tornare qua indietro Oh dai! Mi sto graffando! Possiamo continuare? Suppongo di sì Su giro ci è andata meglio Ma dobbiamo stare attenti adesso Quando dovremo uscire di là Forse la cosa più comoda è di restarci qua Credo che sia più difendibile Che non è... Ok questo è andato Aspetta prendiamo il corpo umano Cosa c'è qua? Kit medico piccolo Che è una gran cosa Corpo umano Quastù evi Qui ce ci ha? Ilbbiamo restare Lo, av lado Posto Lo Su È passato? Sembra di sì, no? Il tizio là che scuda è sempre un casino Tra l'altro stiamo bruciando munizioni a go-go qua Spero presto di trovare Sono sopra o sotto? Sopra Diccio, speriamo di trovare presto Luogo dove andare a Prepepperare un po' di munizioni Perché se no Qua No, ma non dobbiamo andare di qua Dove ci chiedi di andare? Sperate un attimo Allora, dove dobbiamo andare? Ah, di là, dall'altra parte Ok Qua proprio di fronte Ecco là Lo spio Adesso devo usare i codici di accesso per entrare qua Ma questo spazio di sicuro sarà pieno di Di nemici Ah, disattiva il contenimento di sicurezza Munizioni, ottimo Oh, santinumi Ok, non è andato. Ok, non è andato. Uff. Oh dio. Che diavolo sta succedendo? Non è andato. Ok, non è andato. E se il tizio scudato in più è anche difeso dall'altro tizio là. Oh, bella storia. E il bimbo viene qua da papà. Oh, mi è morso sto... Pezzo di... Di pezzo. Allora, qua non funziona. Dovremmo andare a vedere che cos'è che Kaiser che non fa funzionare. Insta 9 non funziona un cribbio di niente. Cioè, il sistema di sicurezza ha proprio pari a nulli. Pari a zero, una roba po'... Vergognosa. Nulla di interessante. Ma... Qua c'è un altro corpo in me. 500 crediti. Che non fanno mai male. Magari riesco a potenziarmi qualcosa o a comprare qualche medici in più. Ok. Andiamo a vedere qua insomma. Qua è... Troccato. Chi c'è qua su? Ma da dove escono? Ah, non mi dire. C'è un po' ridotto qua a sminchio. Quello non è troppo un problema se è da solo. Ma se con gli altri... Ehi! Non muore, potete vedere? Apri! Oh! Area cleared. Door online. Ma come Area Cleared? Sì. Voglio prima farlo esplodere qua fuori. Perché secondo me c'è qualcosa di... Oh! C'è un Terminale Intex. Non ci credo. Eh beh però eh. Mi vuoi lasciare in pace? Eeeh... E che cos'è? E che cos'è? Va a finire che... Muoglio prima di poter salvare. Sono vivo eh? Ok. Oh! Allora termino l'Intex. Ciao Intex! Come stai? Ok. Allora vediamo un attimo se abbiamo un po' di munizioni perché qua... Due munizioni le prendo. Manca un po' per il lancia fiamme quasi quasi eh. Qualche kit medico. Ah ti vendo le granate sto dente e granate a frammentazione che non uso. Eeeh... Armatura rinforzata? Ma è monouso o... Probabilmente sì. Andrei più che altro all'ora di kit medici. Perché non so l'armatura quanto... Giri là. Ma a parte che per ora kit medici... Ne ho. Non so quanto abbia senso tenere da parte i soldi... O spenderli. Forse mi conviene più tenerlo per i potenziamenti. Per la questione magari dello stimolante fisico. Me ne mancherebbero comunque 4.000 di... Di dindi. Se no andare sul... Ma lo sparo rapido non è che mi cambi molto. Perché finiscono le munizioni ancora più in fretta. Anche la miglior ricarica non è che cambi molto. Il lancia fiamme potrei... Aumento danni. Ma è... Teniamo da parte i soldi però. I potenziamenti non sono granché a parte... Salviamo però eh. Questo magari sì. Salva progressi. Qual è il... O è dell'8 novembre? Cioè vuol dire che sono passati quattro mesi senza fare Alien Breed? Eh dicembre, gennaio, febbraio, marzo. Quattro mesi. Porca miseria. Qua dov'è che siamo? Ehm... Questo. Andiamo a sovrapporre questo, sì. Ehm... Andiamo a vedere se riusciamo a combinare qualcos'altro. Di qua. Poi torniamo di là a salvare e... Ehm... Guaglio! Guaglio! Cacca! Chi è che mi ha spaventato? Ah! C'è questo che sta uscendo. Ciao! Ma perché io mi apposto sopra il... Cos'era? Ho visto scappare qualcosa di là. Ho dovuto usare un kit medico piccolo, ma... Creata frammentazione. Non me ne faccio niente. Kit medico piccolo. Ottimo. 300 munizioni per il lancio a fiamme. Ottimo. Vorrei capire un attimo dove devo andare. Ehm... 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 Credo di aver fatto esplodere qualcosa, ma... Ehm... Oh! Nolà di interessante. Qui ci sono dei crediti. Degli riconoscimenti. Ehm... Che poi dico perché si chiamano riconoscimenti? Cioè, boh... Ehi... Ho visto, ho visto... Tobi... 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 Morici. Vorrei prima di finire... Nei guai. E raccogliere un po' di roba in giro. Ok, che raccolgo il buio. È vero. Benvenuto. No, mi è esploso in faccia. Porca miseria, sti piccolini. Munizioni, se ce n'hai. No, dei soldi. Niente. Cioè, quello girava anche senza soldi. Che piccolo. Nulla di interessante. Uh, l'armatura è rinforzata. Fatto bene non comprarla, allora. Nulla di interessante. Nulla di interessante. Tutti questi qua andavano in giro senza... Nulla di interessante. Nulla di interessante. Nell'altro, dei riconoscimenti. Corpo umano. Nulla di interessante. Nulla di interessante. Tra l'altro di solito i crediti sono a blocchi di 500 Quello altro era solo 200 Nulla di interessante 8 munizioni a il cannone Che è un po' il fucilazzo Ecco alla fin fine Granata frammentazione Che andrei anche volentieri a vendere Allora, riattiviamo questo Poi andiamo a salvare A chiudere qua Oh, questo funziona Non ci credo Nice Anzi, è solo tirato degli alieni Il Kaiser Ma dove dobbiamo andare di qua adesso? Dove è sta roba? Griglia dell'alimentazione La griglia B che sarà questa qua sotto Immagino Bella sta animazione che appare Così proprio appariscente Ok, ora Adesso posso riavviarlo O mi esplodino in faccia Bella Bella Io sto insieme a curare Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao a tutti e buona giornata.